Proprio mentre stravo registrando gli altri due video che vedrete in questa giornata è arrivata la quasi ufficialità per un nuovo acquisto per il reparto offensivo giallo-rosso. A questo però vi devo raccontare proprio scritto perché mi sono dovuto veramente scrivere sia la squadra di appartenenza dalla quale lo preleviamo e sia il nome completo del giocatore. Parliamo dell'esterno offensivo Cengiz Hander classe 1997 attualmente in forza al Medipol Basakseik in Turchia. Il giocatore è famoso per essere stato definito il Dibala turco e io già per questo motivo sono un po' perplesso perché queste definizioni vengono sempre date un po' alla cazzo di cane. Guardiamo per un solo esempio, vi faccio un solo esempio, Cerci che era definito l'Horri di Valmontone. Detto questo possiamo ricominciare a parlare di questo giocatore. Allora, è un giocatore di cui non avevo veramente mai sentito nominare. Non è quel giocatore che tu comunque lo hai sentito poco, non ci hai pensato o altro, è veramente un giocatore che non sapevo neanche della sua esistenza. Però se è considerato in questo modo vuol dire che qualche qualità comunque ce l'ha. È un acquisto che secondo me andrebbe a coprire il buco sulla parte sinistra dell'attacco e secondo me, e me lo auguro di tutto cuore, non sarà il sostituto di Salah. Perché, guardando un po' come è il reparto attualmente, servono due esterni offensivi. E questo secondo me sarà l'esterno offensivo mancino di riserva, inatteso ovviamente del titolarissimo che sarà un colpo a sorpresa del nostro DS. Mi dispiace fare questo video senza raccontarvi bene bene le sue caratteristiche, perché, vi ho detto ancora una volta, non sapevo neanche della sua esistenza. È un giocatore comunque molto talentuoso, soprattutto nel campionato turco. Proprio perché parliamo del campionato turco, un po' di paura è anche per il discorso Ucan. Un altro giocatore, prelevato dallo stesso campionato, che doveva essere un fortissimo, una grande alternativa ai titolari, un futuro campione, dopo due anni e una presenza e mezzo in campionato, è stato rispedito al mittente senza rimpianto di nessuno. Questa, diciamo, è la mia paura più grande. Il fatto è che prendiamo questo giocatore, che ancora però deve maturare, secondo me, per diventare pronto per il campionato italiano. Poi, non lo so, magari tireremo fuori dal cilindro un capolavoro. Magari sarà uno dei giocatori più talentuosi e più forti dell'interno campionato. Ormai, comunque, siamo abituati alle sorprese. Anche l'anno scorso, chi si immaginava che i vari Caldara, che si conte, sarebbero diventati dei giocatori così forti e sarebbero stati rivenduti a più di 30 milioni di euro ciascuno. O comunque, siamo giù di lì le cifre. Quindi, io non mi sento di bocciare prematuramente questo possibile affare che sembra in dirittura d'arrivo. Ovviamente, quando il giocatore non si conosce il pensiero, diciamo, la paura sulle sue prestazioni, c'è. È normale, cioè non è come prendere un giocatore già affermato, che tu già sai che ti fornirà ottime prestazioni e sei più tranquillo. Questo è un giocatore che prendiamo a occhi chiusi, cioè, nel senso, noi tifosi lo prendiamo a occhi chiusi. Però sicuramente Monchi lo avrà visto, lo avrà valutato e lo avrà considerato pronto per vestire la maglia giallorossa. Io non lo dico perché penso che Monchi sia onnipotente e penso che non possa sbagliare mai. Però, come per lui, come per altri di essi, mi sembra giustissimo dargli la possibilità di fare gli acquisti che vuole e di formare la rosa che vuole. Poi, magari, anche le squadre migliori hanno fatti loro acquisti sbagliati nei calciomercati, spero che si dica così, passati. E quindi, io non mi sento di bocciare subito questo arrivo perché non lo conosco. Sono preoccupato perché, ovviamente, la paura di questo salto tra un campionato mediocre e un campionato più competitivo c'è. Però, se il giocatore riuscirà a far vedere subito le sue potenzialità, si potrà rivelare un acquisto azzeccato e potrà diventare, magari, che ne so, una delle famose plusvalenze che ha fatto di Monchi uno degli essi migliori in Europa degli ultimi anni. Anche se, ovviamente, la speranza principale è che, se diventi forte, rimanga con noi per tanti e tanti anni. Fatemi sapere nei commenti chi lo conosce e chi non lo conosce. Cosa ne pensate di questo ormai probabile arrivo in casa della rossa per rinforzare il reparto offensivo. e ve lo ridico ancora una volta, per me non sarà assolutamente per sostituire Salah perché c'è troppo disidivello tra i due giocatori. Ci vediamo presto per altri due video che avevo caricato, che stavo registrando mentre è uscita fuori questa notizia. Un saluto e sempre Forza Roma! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!